Ecco una destinazione low cost per le tue prossime vacanze estive. A solo tre ore di volo dall'Italia, un mare limpido e cristallino e allo stesso tempo tantissimi siti archeologici da visitare. L'unico paese europeo diviso ufficiosamente tra due stati, nel quale puoi noleggiare una macchina a partire da 15 euro al giorno per girare da ovest a est, noleggiare lettini e ombrelloni in spiaggia a un prezzo super conveniente, assaggiare il cibo locale, molto simile a quello greco e turco, e visitare località con una storia molto interessante. Mi riferisco a Cipro. Ci sei mai stato? Salva questo video per il tuo prossimo viaggio e seguici per altri consigli.